E sì, dai che siamo all'europeo, Euro 2024, l'Italia c'è e io sono contento. Chi se ne frega delle polemiche e rigore, non mi interessa, io sono tifoso dell'Italia e sono contento. Ok, ando contro corrente, dobbiamo essere contenti come lo sono i tifosi quando la propria squadra vince e soprattutto lo sono all'estero quando la propria nazione vince, perché tifare per la nazionale è una cosa normalissima. In Germania e in Francia anche così esultano comunque. Quindi l'Italia c'è, vai che si va all'euro 2024 e godiamoci l'euro 2024, chi può in Germania, chi può o se no nelle fanzones o a casa, beviamoci la birretta, guardiamoci le partite, guardiamoci le partite e vai, e via, forza, forza azzurri.